Dovete sapere che io sono figlio di un marinaio e quindi fin da bambino io ho vissuto con la valigia in mano per partire, per andare, non so neanche dove, ma partire era molto importante e per questo amo particolarmente questa rubrica, che è la rubrica dei viaggi che vive grazie a voi, perché siete voi venendo qui ad aprire i vostri diari di viaggio